Anticipazioni Un posto al sole, è finita a letto con lui. Samuel scopre tutto. Le anteprime di Un posto al sole svelano al pubblico tanti colpi di scena. Come sempre, dal lunedì al venerdì, l'appuntamento con il romanzo è sempre alle 20.45 su Rai 3. Nunzio, dopo una serata con Ada, si veste, mentre la signorina gli racconta che era a Vulcano e non immaginava di andare a di nuovo a letto con lui. L'infermiera però ripetè che non se ne pentiva, anzi, sperava che lo facesse. Rota cercava di essere gentile, anche se non riusciva a smettere di pensare a Rossella. E, giunto al Vulcano, racconta a Samuel cosa è successo ad Ada. L'anteprima è ottima, Nunzio smentisce e rivela di non aver pensato a Chiara Piccirillo commenta qualcosa di strano su di lei amico e gli dice che gli ha chiesto se pensa ancora a Chiara. Nunzio nega e si guarda bene dal rivelare che non pensa a Chiara ma a Rossella. Quando quest'ultima ha saputo da Ada cosa era successo a Camarota, è rimasta serena e si è ritrovata pur dovendo accettare l'offerta dell'amica di cenare al Vulcano. Tuttavia, all'arrivo al locale, Crovi osserva la reazione della sua ragazza quando Nunzio arriva e interagisce con Ada. Dove si è invitato anche Riccardo. Ricerca. Riccardo